Eccoci arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, in studio con noi c'è il Sindaco di Ferrati Sanottagliani che ci ha dato informazioni tante e numerose circa la gestione di questa emergenza terremoto e di questo avvio della ricostruzione. Abbiamo parlato di edifici pubblici del patrimonio storico-artistico monumentale, ma delle imprese, abbiamo parlato ancora di come siamo Sindaco in una fase di messa a punto proprio del percorso anche decisionale perché c'è una legislazione che non è unificante, quindi ha delle lacune, quindi crea il rischio di avere degli interventi differenziati, quindi che hanno poi la necessità di trovare penso un punto di unità in sostanza. Poi abbiamo parlato anche, lei chiudeva diciamo nella parte precedente della nostra trasmissione, di prevenzione di messa in sicurezza perché fino adesso ci siamo occupati soprattutto di quegli interventi che servono per riparare i danni in linea di massima per il comune di Ferrara e la città di non grande entità, delle abitazioni, degli edifici destinati alle imprese, il discorso del patrimonio storico-artistico monumentale è un discorso a sé stante. Ma se i cittadini di Ferrara volessero mettere in sicurezza le loro case, così come la Commissione Grandi Rischi ha suggerito con una certa energia. In questo momento dovrebbe essere una decisione dei singoli soggetti, imprenditori o cittadini. Un piano di messa in sicurezza dell'edificato, di consolidamento degli edifici, alcuni dei quali abbiamo visto hanno una buona tenuta. Non potrebbe prevedere una serie di agevolazioni, di interventi? Il comune non pensa, non dico di farsi carico visto la situazione finanziaria in cui versa, ma di promuovere eventualmente una sorta di progetto di messa in sicurezza, di consolidamento generalizzato degli edifici? Noi abbiamo intanto, fino ai primi giorni successivi all'evento, detto che tutte le pratiche che riguardavano la ricostruzione o la messa in sicurezza erano esenti. Quindi anche quegli interventi che oggi venissero posti in essere sono esenti da quegli oneri di carattere amministrativo che le amministrazioni in altri contesti pongono. Poi ci sono due elementi che in qualche misura possiamo fare, uno lo possiamo fare noi, noi abbiamo appena avviato il percorso di adozione del RUE, del regolamento urbanistico edilizio, dentro quel regolamento per qualificare la nostra offerta, cioè per riqualificare il tessuto edilizio della città, avevamo messo delle premialità per coloro che avessero fatto edifici che avevano delle rese di tipo energetico, ambientale di un certo tipo, premiandoli con delle cubature, con delle facoltà edificatorie. Insieme con l'assessore Fusari abbiamo costruttori, ma ovviamente stimolati dai committenti che sono poi le famiglie. Abbiamo riflettuto con la Fusari per cui faremo una proposta di modifica di quella parte dove aggiungeremo alla premialità per la resa energetica degli edifici o per la resa di insonorizzazione anche una parte di premialità che riguarda la messa in sicurezza sotto il profilo sismico o comunque l'adeguamento anticipato ad una normativa che per oggi non vede il comune di Ferrara obbligato a mettere in sicurezza, parlo del comune inteso come complesso dei cittadini, non c'è una normativa che obbliga o che dice entro il 2020 lo dobbiate fare, quindi ci metteremo della premialità. Un altro elemento che invece non dipende da noi ma che io trovo assolutamente ragionevole è quello di stimolare, magari già in fase di conversione del decreto, il governo a dire, bene, siccome fino a ieri abbiamo messo la possibilità di detrarre il 36, il 55% dal punto di vista del fiscale, quegli interventi di miglioramento dell'edificio sotto il profilo della resa energetica perché abbiamo degli obblighi verso l'Unione Europea di contenimento del costo energetico del nostro paese, io credo che la messa in sicurezza, non parlo solo del comune di Ferrara, parlo del tessuto nazionale sia, non dico un'emergenza, ma sia una cosa con la quale dobbiamo assolutamente fare i conti da domani mattina, quindi è sì importante il fotovoltaico, è sì importante la finestra controventata, il cappotto, quello che si vuole, ma è importante già da domani che chi investe avendone la possibilità due lire sulla struttura del proprio edificio stia facendo un servizio a se stesso e in qualche misura anche alla città, quindi è giusto e questo lo proporremo già anche a livello di conversione del decreto. Ecco, ma questo aspetto del RUE che lei richiamava prima naturalmente agirebbe sulle nuove costruzioni evidentemente, no? Anche sulla ristrutturazione di quelle vecchie, cioè anche a tutti coloro che dovessero fare un intervento pesante sul, ovviamente se devono rifare i pavimenti no, ma se c'è un intervento di ristrutturazione complessiva di un corpo di fabbrica o di una parte del tessuto urbanizzato della città, possono intervenire con una forma di incentivo. Ecco, per chi ha casa propria, la decisione spetta naturalmente, per chi ha un edificio commerciale che è isolato, diciamo in sostanza che non deve convivere con altri, la decisione facile spetta al diretto interessato, ma se questi lavori riguardano un condominio o comunque un edificio che ha al proprio interno diversi abitanti, diversi frittori, ecco, una domanda è come condomini, cosa dobbiamo fare? Ma questo è un suggerimento, non è che lei possa dare, come dire, intervenire con un'ordinanza del sindaco? Beh, ci sono, intanto nel decreto è prevista una norma di agevolazione che abbassa la quota, quegli interventi che prima si potevano fare all'unanimità, oggi c'è una quota ridotta che consente anche di assumere alcune decisioni all'interno dell'assemblea condominiale senza avere l'unanimità e in ogni caso è evidente che sono quelle migliorie alla struttura che passano attraverso l'assemblea condominiale, quindi così come ieri facevamo l'assemblea condominiale per trasformare l'impianto di gasolio in geotermia o a metano, domani faremo la stessa identica assemblea per poter passare ad un sistema di sicurezza del fabbricato che richiede un investimento. Chiederei alla regia di mandare in onda questo servizio che riguarda un incontro che c'è stato ieri in regione a Bologna e ha coinvolto geologi della regione e di vari altri enti, credo anche della protezione civile, per quanto riguarda la definitiva costruzione di una carta geologica del paese. Vediamo. L'Emilia Romagna è stata sorpresa dal terremoto nel mezzo di una transizione positiva e questo è ciò che è emerso questa mattina durante la presentazione del progetto CARG, quello della nuova carta geologica a scala 1 a 50 mila del nostro paese, necessaria anche per fare valutazione di microsismicità. Il progetto promosso dall'ISPRA con le regioni, gli istituti di scienze della terra e gli istituti di ricerca competono solo al 40% e l'Emilia Romagna era uno dei pochissimi territori mappati completamente. La regione era anche uno dei territori che per primi si erano adeguati ai nuovi criteri di sismicità che partiti nel 2003 con la nuova mappatura antisismica si sono tradotti in normativa definitiva solo più tardi. Io speravo, avrei fatto i salti di gioia sapendo che quello che noi abbiamo fatto in tutti questi anni fosse stato utile in Emilia Romagna per salvare le vite e purtroppo non è stato così e ci è mancato poco perché appunto eravamo su questo cammino, erano su questo cammino, 10 anni forse sarebbero bastati per riprendere un po' anche le strutture più a rischio. Adesso vediamo che succede, la Commissione di grandi rischi ha espresso una preoccupazione per altre zone in Emilia Romagna, speriamo che si sbaglino, una probabilità non nulla che ci siano altri terremoti forti, purtroppo esiste, questo non si può non dirlo, è una probabilità molto bassa e speriamo che non si verifichi. Man mano che ci sposta verso l'est comunque le strutture sono più pronte, tutto il territorio è più pronto perché la Romagna è più sismica tradizionalmente dell'Emilia e quindi le popolazioni sono comunque più preparate. Questo è il commento di Valensise alle polemiche che hanno accompagnato la dichiarazione della Commissione grandi rischi della settimana scorsa. Io credo che vadano destinti il merito e il modo, il merito purtroppo non può essere discusso più di tanto perché come si dice spesso in questi casi è come insultare il medico che ci dice che magari abbiamo un tumore, certe cose non possono non essere dette se sono vere. Il modo forse poteva essere livellamente più morbido, d'altra parte la Commissione grandi rischi è nuova, è un nuovo organo che ne rimpiazza un altro che purtroppo è finito sotto processo. Per terminare il progetto della nuova carta servono a 250 milioni di euro spalmati in 20 anni di lavoro. Il completamento del progetto viene considerato essenziale soprattutto in un paese come il nostro. La cartografia geologica è la conoscenza di base, è come in medicina conoscere il corpo umano per poi fare degli studi più approfonditi. Senza una conoscenza di base non è possibile fare nessuna cartografia sismica, cartografia idrogeologica o delle frane. Allora Sindaco, siamo al 40% della carta geologica dell'Italia ma la regione Emilia-Romagna se ci può confortare era quasi a posto sostanzialmente, soltanto che ci sono mancati quei dieci anni che il dottor Valensisi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia della regione con sede a Bologna e che è autore di diversi testi fra cui questo storico dei terremoti insieme a Emanuela Guidoboni e quindi conosce bene anche la serie dei terremoti che si sono verificati anche nella nostra regione oltre che nel resto del paese, sono mancati quei dieci anni necessari per far passare la comunicazione circa il rischio geologico della nostra regione agli amministratori, a chi governa, a chi prende le decisioni del territorio e ai cittadini in modo particolare. E quindi il geologo diceva che dobbiamo sperare di avere il tempo di prendere misure adeguate e ad affrontare questa realtà che adesso conosciamo, abbiamo conosciuto in modo brutale il 20, il 29, il 2 maggio, insomma comunque le scosse continuano, quindi non possiamo dimenticarci nel rischio è che ce ne dimentichiamo una volta che le scosse smettano di turbare i nostri sogni e le nostre giornate. Ecco su questo piano c'è anche una responsabilità delle amministrazioni pubbliche per quello che riguarda la prevenzione e la comunicazione finalizzata alla prevenzione a tutti quegli interventi che davvero ci consentano di convivere con il rischio sismico. Guardate, l'Italia è certamente il paese più bello del mondo, cioè è un paese ricchissimo di storia, di culture, di elementi di carattere artistico, paesaggistico, ma è un paese anche molto complesso dal punto di vista morfologico, cioè della sua costruzione, le Alpi, gli Appennini, la Pianura Padana, è una realtà molto complessa da gestire. Evidentemente intanto il fatto di essere una nazione recente, il fatto di avere, e questa è una valutazione purtroppo amara, cioè noi abbiamo un debito pubblico enorme che oggi ci impedisce di finanziare con tempestività, avendo in passato finanziato un po' di tutto senza aver fatto una scaletta vera delle priorità, cioè rispondendo a quelli che erano i bisogni dell'immediato dei cittadini, diciamo pure dei cittadini con diverse forme, alcune riguardano la previdenza, altre riguardano categorie economiche, piuttosto che di tutto abbiamo finanziato. Oggi ci rendiamo conto che purtroppo quei denari, cioè quel debito, avrebbe potuto finanziare cose molto più importanti, molto più serie, molto più utili, che ci avrebbero permesso di mettere in sicurezza il nostro paese, non sto parlando solo dei terremoti, sto parlando delle coste, del dissesto ideologico della montagna, della parte fluviale, delle alluvioni e i morti che fanno anche, che hanno fatto recentemente. Dobbiamo capire che mentre va avanti una politica di assoluto rigore finanziario, cioè non si butti via più un euro perché anzi dobbiamo ridurre il nostro debito per poterci presentare nei salotti buoni della finanza con tutte le credenziali se non vogliamo, diciamo così, essere emarginati dal punto di vista produttivo, degli investimenti, ma soprattutto dal punto di vista della coesione sociale, vediamo quello che sta succedendo. Dall'altra parte dobbiamo però essere capaci di dire attenzione, ci sono delle priorità sulle quali non possiamo scherzare, nessuno chiede ed è impossibile chiederlo come in qualche misura sembrava fosse di mettere a norma un patrimonio edilizio nel giro di 6 mesi perché adesso è venuto questo evento, è impossibile, rendiamocene conto, chi governa, chi amministra, chi ha un'impresa, chi ha una famiglia sa che la sua casa, la sua impresa, la sua scuola comunale è a rischio perché non è antisismica e quindi sa di dover governare in un momento di assunzione di responsabilità, proprio per questa ragione bisogna che ci sia la consapevolezza nazionale che il tema del nostro assetto idrogeologico e della sismicità del nostro paese ci impone di investire, ci impone di investire. Quindi da un'altra parte cerchiamo di non buttare via più neanche un euro, dall'altra parte troviamo quegli euro che sono necessari perché non è detto che arrivi fra 10 anni, io mi auguro che arrivi fra 200, però se ci dovesse essere un sisma peggiore di quello che è venuto, i problemi sarebbero peggiori, avrebbero dei risultati peggiori di quelli che abbiamo avuto oggi, quindi non si può pensare che l'abbiamo scampata bella, non è vero, verrà un altro giorno esattamente come il 29 o come il 20 maggio, si tratta di capire se quando viene le vergini savi o quelle stolte avranno provveduto a mettere in sicurezza oppure no, non è affidato a chi deve venire, è affidato ad oggi perché nessuno sa quando arriva quel momento. C'è una giornalista, Pia Figueroa, che è cilena, che ha studiato in Italia, che è intervistata e direttrice di un'agenzia di stampa cilena nazionale, che è intervistata su richiesta di fare un confronto fra quello che è avvenuto in Italia e in Emilia e come il Cile ha saputo reagire dopo le distruzioni dei terremoti degli anni 60 e 70 a questa convivenza con il terremoto ha detto che obiettivamente il Cile ha fatto molto, cioè ha preso una decisione dopo la distruzione. Certamente, dice, gli emiliani, lei ha questa fiducia negli emiliani, gli emiliani sapranno far tesoro di questa, non dice l'italiano, gli emiliani sapranno far tesoro di questa vicenda che li ha accolti di soffresa. Ecco, ma lei come sindaco e quindi come componente di questa cabina di regia in un qualche modo, anche se non direttamente, adesso non lo so, che tipo dopo l'emergenza e quindi l'aiuto alle persone, dopo questa fase di avvio della ricostruzione si dovrà pensare o si deve fare già fin da oggi? Quindi questa riflessione sulla necessità di mettere in sicurezza il patrimonio, anche laddove, per esempio, come da noi, non ci sono stati dei danni devastanti. Beh, guardate, noi abbiamo una legislazione che se non obbliga a mettere a norma, però dice che tutte le costruzioni nuove, a partire perlomeno dal 2005-2008, devono avere determinate caratteristiche. Quindi c'è un processo, in questi termini, lentissimo di adeguamento. Qual è il tema vero? È che in una città come Ferrara, con un centro storico come quello che ha, di costruzioni nuove dentro il centro storico, nessuno si auspica, ne vengano. E quindi c'è un problema anche di tecnologia non invasiva, non eccessivamente costosa, compatibile con la struttura morfologica degli edifici che sono rinascimentali, del 600, del 700, alcuni più antichi ancora, con le capacità di spesa e la salvaguardia degli aspetti monumentali di questi edifici. Quindi c'è una grande sfida anche per il mondo politico e per il mondo imprenditoriale, oltre che per il tessuto dei cittadini. Io dico che dentro le rue mettiamo questo, io dico che il governo deve comunque defiscalizzare gli investimenti che verranno fatti in questa decisione, però penso anche che il nostro mondo imprenditoriale che dovrà fare i conti con la sismicità degli edifici a partire da domani, anzi ha già cominciato a fare i conti dal 21 di maggio, ha la necessità di essere messo nelle condizioni di trovare una committenza capace di rispondere a questa richiesta, perché, attenzione, senza contributi, senza defiscalizzazione, stiamo parlando di una fascia ridottissima di cittadini che possono in qualche modo, e anche gli enti locali, perché anche gli enti locali vivono un po' una sorta di reddito familiare ai livelli di sussistenza, anche gli enti locali vanno a mangiare alla Caritas da un certo punto di vista. Ecco, quindi ci deve essere un quadro di questo genere, però è evidente che ci deve essere un'accelerazione, cioè ci devono essere dei meccanismi che comportano un più rapido adeguamento anche del patrimonio esistente, difficile imporlo in maniera coattiva, bisogna incentivarlo e questo lo possono fare gli enti pubblici con meccanismi, cioè i comuni con meccanismi di premialità sulle modalità con cui si sostituisce l'edificio, lo Stato con dei meccanismi di fiscalità. E' tutto da fare, quindi è un discorso. Poi può nascere anche un mercato da questo, può anche nascere una tecnologia, una novità, una imprenditorialità specializzata su questo, che non è detto che debba lavorare esclusivamente sul centro storico di Ferrara, potrebbe vendere questo in tutti quei territori e sono purtroppo tanti che hanno questo elemento di rischio come connaturato al proprio territorio. Quindi diciamo c'è bisogno anche di una crescita da parte delle imprese che si occupano di queste cose, no? Certo, è un tema col quale nessuno ha fatto i conti fino in fondo, e quindi è giusto che lo facciamo tutti, lo facciamo imprese, lo facciano gli enti locali, lo facciano le famiglie che devono pensare che oggi sostituire il perché è importante, ma ha più significato capire come è costruita quella casa, che tipo di rischio... Un giunto fatto bene è meglio di un passereo, un giunto fatto bene sulle travi del tetto, anche se non si vede ha un'importanza non irrivole. Fondamentale, ecco... E il mondo del credito potrebbe essere coinvolto in questa crescita, perché è il pezzo che lei non ha citato, insomma, no? Beh, io l'ho detto per le imprese, nel senso che le imprese vedono un rapporto con il mondo del credito molto diversificato. Io penso che le imprese e il mondo del credito devono mettersi assieme, cioè devono offrire alle famiglie un prodotto, come è successo per il fotovoltaico. Il fotovoltaico è stato venduto alle famiglie con un pacchetto che diceva tu fai questo intervento, hai un beneficio sulla tua bolletta, il mutuo te lo paga il conto del GSE fino a una certa misura. Credo che un domani non ci sarà un beneficio del conto energia che produce una redditività certa pluriennale, però esiste la possibilità che la defiscalizzazione e i prodotti finanziari associati a un intervento delle imprese che sia capace di essere a letto, cioè costa questo intervento o costa questo, molto spesso le famiglie dicono io comincio a fare un lavoro in un edificio storico e non so a cosa vado incontro, quindi anche l'impresa deve imparare a lavorare a scatola chiusa, cioè a dire ti offro un prodotto, ti offro anche una risorsa finanziaria perché ho una convenzione con la banca che su questo intervento mi dà questo genere di garanzie. Quindi li mettiamo insieme allora l'emergenza, la ricostruzione e questa attività da far partire e poi da implementare di messa in sicurezza complessiva, di consolidamento complessivo, nessuno può, cioè c'è anche chi può partire da solo, ma questo non risolverebbe il problema. Sono molto pochi in Italia oggi quelli che sono capaci di investire 50 mila euro o di fare un mutuo di 50 o di 100 mila euro, non per comprare un edificio ma per mettere a norma il proprio. Il rischio vero è quello che fra sei mesi l'abbiamo scampata bella e siamo tornati a casa, il problema se lo porranno i nostri nipoti. In questo senso, mentre giudico la comunicazione della Commissione dei grandi rischi devastante dal punto di vista del come è stata fatta e nei disastri anche la comunicazione è un elemento della sicurezza, invece bisogna tenere presente che il dato nuovo, il dato vero è attenzione, siamo in una zona che meno di altre ma più di altre ha questo tipo di problema ed è un problema che non passa, non è un problema che è di passaggio, è passato un treno, adesso non, è un problema che rimane. Certo, è questo, voglio dire, noi diciamo sempre che la prevenzione è un fatto di cultura, però è un fatto molto pratico che abbiamo toccato con mano. Prima di chiudere e proprio per dare ai telespettatori l'ultima, una specie di ripasso delle risposte in sintesi, sindaco, sono il titolare di un'attività produttiva, cosa devo fare per riprendere la mia attività in condizioni di sicurezza adeguate? Il percorso è? Alcune sono chiuse, altre sono aperte. Allora, se l'attività produttiva è all'interno di un prefabbricato, il tecnico incaricato per riprendere l'attività deve certificare in via provvisoria l'agibilità sismica, in via provvisoria, che non è l'antisismicità del fabbricato, ma che è l'adozione di quelle tre misure che sono nel decreto 74, al com'ottavo dell'articolo 3, che riguardano le travature. Per le attività produttive che non sono dentro dei prefabbricati, il tema non si pone se non in termini generali, cioè ogni datore di live lavoro deve sapere se il suo ambiente è un ambiente sicuro oppure no. Quindi bisogna rivolgersi a un tecnico che faccia quella famosa relazione da consegnare affinché si possa essere rilasciato a questa agibilità provvisoria in vista poi della verifica che deve arrivare ad una resistenza sismica pari almeno al 60% di quella che oggi la legge prevede per gli edifici nuovi. Non è semplice, fortunatamente non sono un ingegnere, quindi la risposta è tecnica e la dovranno dare a quelli che sono capaci di dare. Certo, che è una responsabilità, ma le competenze ce le hanno. Stefano, finiamo qui di sottoporre il Sindaco a questo tour de force come primo round. Certo, primo round. Ringraziamo il Sindaco per le risposte che ci ha dato. Ricordiamo che il punto di riferimento per i cittadini che hanno questo tipo di esigenza resta insomma la sede di via Marconi 35 dove si trova il centro operativo del comune, quindi la sede di protezione civile per questo tipo di pratiche. E noi chiudiamo qua il nostro appuntamento con Guglielmo Tella. Torneremo la prossima settimana con nuovi ospiti, ancora con l'obiettivo di dare delle conoscenze utili ai cittadini in questo momento per muoversi nella gestione della fase post terremoto. Ringraziando dagli abighinati evidentemente, ma soprattutto ringraziando il Sindaco Tiziano Tagliani che ha voluto essere con noi questa sera e ringraziando voi che ci avete voluto seguire. Grazie. Grazie.